Musica Bravissimo Arex, continua così, stai andando la grande Oh, aiuto bastatore, non riesco a fermarmi Bravissimo, continua così, stai andando la grande Oh, dovevi per forza venirmi addosso eh Oh, ai, 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 che botta Come sono andato bastatore? Sei andato bene, però un supereroe non è un supereroe Se non si mette a salvare gli indifesi Oh, e chi devo salvataggiare? Ora ci penso io Aiuto, aiuto Oh, il mio nipotino è rimasto intrappolato là sopra Aiuto, nonna, aiuto Qualcuno faccia qualcosa, per favore Da, 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 da Oh, Spider Rex, finalmente sei arrivato Non temere, nonnina, vedrai che andrà tutto bene Ancora una volta, Spider Rex salverà la situazione Ehi, bastatore, che devo fare? Ma che, devi salvare il piccolo, no? Mi sembra ovvio Aiuto E ho capito, ma come lo devo salvataggiare? E non lo so, inventati qualcosa improvvisa E hai visto i film sui supereroi, no? Eh, sì Va bene, adesso lo salvo E lo farò nel modo più epico possibile E, eh, eh E, eh E, eh, 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 eh Oh, 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 oh! Bastatore! Ma non ci arrivo! Oh mio Dio, che vergogna! Ma insomma! Tu sei Spider Rex! Attacca la tua ragnatela da qualche parte e afferralo al volo! Aiuto! Oh, Bastatore, che faccio? Questo continua ad urlare! Questo a chi? Non parlare così del mio nipotino! Oh, non ti ci mettere pure tu! Aiuto! Aiuto! Arex, sbrigati! Sei un pessimo supereroe! Aiuto! Arex, muoviti! Sbrigati, il mio piccolino morirà! Qualcuno mi aiuti! Arex! Il mio nipotino! Aiuto! Oh, statevi un attimo zitti! Mi state mettendo ansia! Arex, se non muovi subito quel sederone che ti ritrovi, giuro che ti licenzio! E mi è caduta pure la videocamera! E io me la prendo con te, perché mi fai agitare! Oh, Bastatore, ma io non lo volevo fare, questo film! E invece lo dobbiamo fare! Dai, muoviti! Ma non lo avevamo già finito! Sì, perché la produzione non si poteva permettere altri personaggi! E allora dov'è che li hai trovati questi due esemplari? Aiuto! Aiuto! Beh, sono riuscito a convincere il produttore a fornirci qualche altro dinosauro disposto a recitare per questo film! Perciò, adesso il film verrà ancora più bello! Se lo dici tu... Dai, in compenso però abbiamo una scadenza! Dobbiamo consegnare il film tra un'ora esatta! Un'ora? Ma... ma che dici? Come facciamo a girare un film in un'ora? Oh, smettila di lamentarti! Possiamo farcela! Ma non puoi fare un film in così poco tempo! Eeeh, senti bello! Tu non sei nessuno per venire a dirmi cosa posso fare e cosa non posso fare! Capito? Io sono un grande regista! Perciò sono benissimo in grado di fare un film in meno di un'ora! Ma stai zitto! Guarda che io ho lavorato con le migliori star del cinema del mondo! E ho collaborato persino con Peter Jackson! Con Pipiché? Con... 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 con Peter Jackson! Ah, con Michael Jackson! Quello che... Non ho detto Michael Jackson! Ho detto Peter Jackson! Oi 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 oi! E chi sarebbe? Ma... ma... ma è quello che ha girato il Signore degli Anelli! È King Kong! Ma... scusa! King Kong non l'avevi girato tu! No... no... ma infatti quello è un altro King Kong! Aiuto! Basta! Non c'è altro tempo da perdere! Torna in azione! Oh mamma! Ma quindi che devo fare? Lo devi salvare! Ricordati! Da un grande potere derivano grandi... Derivano... grandi aspettative che io non riuscirò mai a soddisfare! Aiuto! Oh mamma mia! Non lo sopporto più! Fatelo smettere! Dai! Alzati in volo con la tua ragnatela! E afferralo al volo! Oh e va bene! Oh! Pfff! Pfff! I 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 ha! Ma, che è successo? Oh no! Ho ucciso il piccolo! E la nonna! Eheheh! Sono un mostro! Eheheh! Spider Rex! Mi hai salvato la vita! Eh? Ma, ma allora sei vivo? Oh, signor Spider Rex! Grazie a lei il mio nipotino è sano e salvo! Oh, come sono felice! Ma allora qui sotto chi c'è? Oh oh! Ho un refrenabile desiderio di ammazzarti! Ma non lo farò perché mi servi per questo film! Oh, meno male allora! Ora, dimentichiamo quanto è accaduto e continuiamo a girare il film! Ok! Ora entra in scena Mary Jane! Addirittura Mary Jane! E dov'è? Eccola lì! Come va? Ma, ma lui è un maschio! Eh, senti! La produzione non si poteva permettere una bella dinosaura! Perciò accontentati! E che devo fare ora? Adesso lei viene rapita da Venom! E dov'è Venom? Ce l'hai davanti! Davanti? Ma chi è? Questo sarebbe il grande Venom? Sì! Adesso Venom terrà in ostaggio Mary Jane! Aiuto! Aiuto! E che devo fare? Beh, aggrediscilo! Ok! Venom! Lascia stare Mary Jane! Aia! Ops! Ho preso male la mira! Scusami Mary Jane! Aiaia! Ma fa attenzione! Avanti Arex! Colpiscilo! Quif! 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 Issh! 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 Bastatore! Ma continua a schivarmi! È troppo veloce! Ma se non si sta nemmeno muovendo! E allora è così piccolo che non riesco a prenderlo! Prendi bene la mira e poi vai con un colpo deciso! E va bene! I... 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 E Yeee! Ho vinto! Benissimo! Abbiamo finito il film! Yeee! Ora possiamo andare a farlo vedere al produttore Sì! Andiamo! Bene, ci siamo Ma siamo sicuri che il film piacerà al produttore? Certo che gli piacerà È bello, originale Insomma, è una cosa che non si era mai vista prima, no? Ma insomma, non è troppo simile al film di Spider-Man? Ma no, cosa dici? E poi questo non si chiama Spider-Man Questo si chiama Spider-Rex Ma speriamo Secondo me è troppo simile Ma no, non c'è niente di simile Vedrai che il produttore lo amerà Ragazzi, il produttore è pronto per ricevervi Prego, venite pure Oh, Arex, è arrivato il momento Andiamo, facciamogli vedere di cosa siamo capaci Va bene Qualche minuto dopo Via! Aia! Oh! Il vostro film è una schifezza! È la brutta copia dello Spider-Man di Sam Raimi Sparite! Non fatevi vedere mai più! Via! Oh! 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 È andata bene, no? Brr! È parecchio esigente questo produttore, eh? Eh sì! Vabbè, dai, ci abbiamo provato Eh no! Non possiamo arrenderci! Che intendi? Dobbiamo metterci sotto E fare un film come si deve Un altro! Sì! Continueremo a fare film Vedrai che prima o poi verrà fuori qualcosa di grandioso! Eh sì, prima o poi Dai, non c'è tempo da perdere Mettiamoci subito al lavoro Ma sono stanco! Smettila di lamentarti! Avanti! Non abbiamo tempo da perdere! Questa volta verrà un film decisamente migliore! Ah, ragazzi! Il video finisce qui! Nel frattempo io e Arex decideremo su cosa fare nel prossimo film! Voi non dimenticate di cliccare qui per iscrivervi al canale E qui per non perdervi gli altri video dedicati ai vostri giocattoli preferiti! Noi ci vediamo alla prossima avventura! Ciao a tutti! Ciao a tutti!